Siamo qui oggi con il professore Occhi Pinti alla facoltà di lettere di Tor Vergata per un evento molto importante che coinvolge soprattutto quelli che sono gli studenti del domani del nostro Ateneo. Ci può parlare di questo evento? Sì, si è trattato di un incontro di studio organizzato qui dentro l'Ateneo di Tor Vergata, dentro la macroarea di lettere e filosofia, che abbiamo voluto aprire agli studenti più giovani delle scuole secondarie, sono 120-130 studenti venuti da istituti secondari. Noi abbiamo voluto organizzare non il solito incontro di orientamento universitario come tanti se ne fanno dentro gli Atenei, abbiamo voluto invitare tutti gli studenti, ma soprattutto i nostri studenti l'invito è rivolto a noi stessi a riflettere sul futuro delle discipline umanistiche, a riflettere sulla necessità che la ricerca accademica e la didattica universitaria si aprano alle esigenze del mondo contemporaneo, che sono le esigenze dei giovani, le esigenze del mondo del lavoro, della società di oggi. Studiare il passato, studiare la storia dell'arte, studiare uno scrittore medievale, studiare un artista rinascimentale non significa tagliarsi fuori dal presente ed è importante che gli studenti più giovani lo capiscano. Studiare il passato significa capire il presente, significa capire chi siamo. Può sembrare banale dirlo, ma a volte serve con coraggio ribadire ciò che potrebbe sembrare banale. In che modo invece, secondo lei, gli studenti possono essere coinvolti in quelle che sono le attività di ricerca degli Atenei? I più giovani debbono essere messi nelle condizioni di poter dare un contributo fattivo allo svolgimento delle nostre attività di ricerca. E come si fa? Non è tanto facile coinvolgere attivamente i non addetti ai lavori. Ma noi siamo fermamente convinti che i non addetti ai lavori possano dare un contributo positivo, un contributo fattivo allo svolgimento delle nostre attività di ricerca universitarie. Perché la ricerca non è soltanto di chi la fa, ma è di tutti, anche dei non addetti ai lavori. Ma com'è possibile coinvolgerli? Ecco, esistono delle possibilità, possiamo studiarle, metterle a punto di coinvolgimento dei più giovani. I nostri studenti, quelli dei primi anni, di solito vengono utilizzati nel lavoro di trascrizione, di digitalizzazione dei testi antichi. Ed è un lavoro molto faticoso, diciamo così, molto umile, paragonabile al lavoro che svolgevano i monaci medievali quando trascrivevano i testi, i codici antichi per tramandarli alla posterità. In questo modo i più giovani, ma io sono convinto che anche gli studenti delle scuole secondarie possano dare un importante contributo in questo senso, non soltanto rendono un servizio utilissimo alla ricerca, agli studiosi, ma attraverso l'umile trascrizione, l'umile digitalizzazione di un testo che poi verrà da loro pubblicato e messo online, all'interno ovviamente delle collane editoriali dell'università. Attraverso questo lavoro faticoso, i studenti si confrontano con i testi della tradizione letteraria, imparano a leggere e imparano anche a scrivere e di conseguenza anche a pensare. Tra l'altro, professore, questa è stata una giornata molto importante anche per quella che è la realtà dei non vedenti. Attraverso questo evento abbiamo avuto modo di confrontarci con delle dinamiche che spesso non ci appartengono a quello che è il nostro quotidiano, nello specifico parliamo dell'arte proprio per i non vedenti, ce ne può parlare? La ricerca universitaria deve necessariamente aggiornarsi sulle problematiche che il mondo contemporaneo ci pone. Il tema della disabilità, il tema dell'inclusività sono temi assolutamente nuovi. Pochissimi anni fa gli studiosi, i ricercatori non si ponevano questioni di questo tipo, non si ponevano il problema del coinvolgimento nella fruizione delle opere d'arte, dei disabili, dei non vedenti. Noi abbiamo pensato un progetto sperimentale che è stato finanziato dal Miur, che ha portato alla realizzazione di una mostra che ha avuto un notevolissimo successo. La mostra si è svolta nel Palazzo Rospigliosi di Zagerolo e in mostra sono state presentate delle riproduzioni tattili, tridimensionali, di opere d'arte pittoriche, capolavori della storia artistica italiana, opere di Raffaello, di Caravaggio, di Correggio, tradotte nel formato tattile per consentire ai non vedenti di toccare con le mani ciò che i nostri occhi vedono quando noi guardiamo un quadro. Ma è stata un'opportunità importantissima anche per i non disabili, anche per noi che ci vediamo, perché siamo stati invitati a ragionare su quel senso di fisicità, di tattilità che stiamo perdendo, perché stiamo abituandoci per effetto di internet, per effetto del preponderante fenomeno dell'apticizzazione del visuale, a fruire, ad avvicinarci alle opere d'arte attraverso internet, attraverso la rete, attraverso la riduzione digitale che naturalmente ci allontana dall'idea di concretezza fisica, di tridimensionalità, di fisicità che appartiene a tutti gli oggetti d'arte, anche a quelli bidimensionali. Non dimentichiamoci che un dipinto e prima di tutto un oggetto concreto, situato in un luogo ben preciso, rispetto al quale noi tradizionalmente siamo invitati a rapportarci, coinvolti all'interno di una dimensione spazio-temporale alla quale un dipinto bidimensionale dà vita. Ecco, internet, la fruizione attraverso la rete, tutti questi aspetti ce li fa dimenticare. Quindi questo nostro progetto di mostra tattile serviva anche per richiamarci l'attenzione su questioni di fruizione concreta fisica delle opere d'arte rispetto alle quali noi stiamo allontanandoci.